Si è concluso con un seminario svoltosi nell'aulamagna dell'Istituto Alberghiero, senatore di Rocco, volto a tracciare il bilancio dell'attività svolta, il progetto di servizio civile, corretti stili di vita, sana alimentazione, corretto movimento, che ha visto per un anno 30 giovani volontari negli uffici della provincia regionale di Caltanissetta impegnati in varie iniziative di sensibilizzazione della popolazione su tale tematica. Posso dire che è un bilancio ampiamente positivo, naturalmente, cioè i ragazzi si sono impegnati attivamente, sono persone anche fornite di diversi tipi di specializzazione che servono tutte al progetto, quindi ci sono gli psicologi, ci sono coloro che sono esperti in ambito giuridico, ci sono gli esperti dietologi anche e tante altre professionalità. Sono riusciti a cooperare insieme, quindi a raccordarsi insieme per trovare, noi abbiamo cercato di guidarli sì, ma abbiamo esaltato la loro autonomia, perché sono ragazzi molto validi in ogni caso, e quindi per esempio abbiamo preparato all'inizio dei volantini da distribuire, e quindi l'abbiamo fatto insieme a loro, c'era addirittura un grafico pubblicitario tra di loro, due anzi, che hanno curato pure l'ottimizzazione grafica, e così via in tutte le fasi del progetto. Oltre alle scuole ci sono state delle iniziative organizzate, grazie anche alla Col Diretti, alla collaborazione dell'Istituto Testa Secca, in questa iniziativa abbiamo ospitato i bambini, e ai bambini abbiamo fatto proprio toccare con mano il cibo sano, quindi l'alimentazione corretta, cominciando dalla frutta, e cominciando da quegli alimenti che sono alimenti biologici, che il nostro territorio soprattutto ci offre, e quindi bisognerebbe valorizzare anche questi prodotti locali, proprio per far sì che ci sia un'alimentazione corretta, e un'abitudine alla sana alimentazione da parte sia delle famiglie che dei ragazzi. Un'occasione durante la quale i giovani che hanno vissuto questa esperienza hanno testimoniato il lavoro portato avanti in questi mesi, finalizzato alla prevenzione dei rischi da una cattiva alimentazione attraverso la promozione di sane abitudini alimentari, a partire dalle giovani generazioni fino all'età adulta. Sicuramente l'esperienza è stata formativa, da un punto di vista professionale, ma anche sulla base dei rapporti personali che si sono instaurati nella fase organizzativa del progetto, e quindi poi nella fase operativa vera e propria. La collaborazione tra di noi è stata una cosa che mi ha cresciuto tantissimo, mi ha fatto crescere, perché come diceva il dottore Manguso, si sono alternate diverse professionalità e quindi le conoscenze di ognuno sono state evidenziate e poi si sono scambiate tante informazioni che sono state utili alla fase operativa del progetto. Questa esperienza di servizio civile che ci ha visto impegnati nell'arco di un anno in varie attività, attività che hanno coinvolto sia i bambini più piccoli che i ragazzi più grandi, quindi delle varie scuole e anche la popolazione in generale, quindi sfruttando l'occasione delle varie manifestazioni culturali e anche allestendo adeguati stand, proponendo quindi la degustazione di vari prodotti agricoli, valorizzandone l'importanza. Dal punto di vista personale questa esperienza è stata sicuramente positiva, sia da un punto di vista di crescita personale interiore che da un punto di vista professionale e quindi lavorativo.